Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fideli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, scende a 4 km la coda per veicolo in avaria tra più a 1 complanare e Firenze Nord e più a 1 variante in direzione nord. Per traffico inoltre coda in uscita a Firenze Scandicci nelle due direzioni e coda tra Firenze Scandicci e Firenze in Pruneta in direzione Roma. Ci spostiamo sulla Firenze Mare dove troviamo coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e codi a tratti tra Prato Ovest e Il Vivo con la 1, tutto in direzione di Firenze. Arriviamo in Fipili per incidente, 3 km di coda tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze. Per lavori inoltre 2 km di coda tra Empoli e Ginestra verso il capoluogo e rallentamenti in carreggiata opposta tra Ginestra e Montelupo. Muoversi in Toscana Infio, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!